monitorare la situazione e adesso torniamo a Civita Castellana, Nazario Basili siamo tra gli artigiani raccontando le loro difficoltà ma anche quel grande tesoro che hanno nelle loro mani che però spesso è inespresso allora in diretta di nuovo, ti vedo da là, in diretta Sì nel collegamento precedente abbiamo parlato dello stato di salute dell'artigianato viterbese, del fatto che negli ultimi cinque anni sono diminuite del 2% le imprese artigiane e ora parliamo di formazione e futuro il professor Enea Cisbani insegna all'istituto Ulderico Midossi qui a Civita Castellana, uno dei nove istituti della provincia di Viterbo dove è possibile seguire percorsi professionali ed artigianato, come vanno le iscrizioni nella vostra scuola? Le iscrizioni si confermano diciamo così stabili, abbiamo innanzitutto due sedi, la sede Civita Castellana e la sede di Vignanello, il numero comunque degli studenti si mantiene diciamo inalterato nel corso degli anni. C'è interesse per questa scuola? Sì, infatti la nostra scuola è un liceo artistico, richiede da parte dello studente una profonda motivazione quindi noi educhiamo questi ragazzi al culto dell'arte. Quanti ragazzi diplomati trovano lavoro subito appena usciti dalla scuola? Consideriamo che una volta il ragazzo conseguito il diploma può accedere a tutte le facoltà universitarie. Poi una discreta percentuale si dedica poi all'attività diciamo in forma propria attraverso diciamo così creazioni di manifatture e comunque attività artigiane. E Aurora Cima è proprio una studentessa dell'istituto, come mai ha intrapreso questo percorso? Ho intrapreso questo percorso perché ho sempre avuto una passione e predisposizione per l'arte in particolare appunto per le ceramiche. Spero comunque di continuare a studiare in questo ambito. Tu studi al Midossi e nel tuo futuro vedi una possibilità di diventare artigiana? Sì assolutamente, è una passione che ho avuto da sempre e spero appunto di poter continuare. E a proposito di futuro torniamo con Luca Fanelli di CNA di Terbo. Se Aurora volesse aprire un'attività, un'azienda artigianale, d'artigianato, quali sono le agevolazioni che potrebbe usufruire? Insomma, qual è il percorso per lei? Ad oggi la legge regionale sull'artigianato prevede la costituzione delle botteghe scuola e questi sono uno strumento attraverso il quale gli artigiani passano le loro conoscenze ai ragazzi in maniera gratuita. Qual è il problema? Che ad oggi ancora non sono state finanziate, c'è la legge ma non sono finanziate. Un altro strumento poi attraverso il quale i ragazzi possono essere inseriti nel mondo del lavoro è quello dell'apprendistato. L'apprendistato è la misura attraverso il quale le nostre imprese formano i giovani e attraverso il quale poi i giovani possono diventare poi come aurora spira degli imprenditori, degli artigiani. C'è bisogno insomma di giovani anche nell'artigianato? Da Civita Castellana è tutto, linea allo studio. Grazie Nazario, noi abbiamo delle notizie di cronaca. Grazie a tutti.